Canale YouTube di Luigi Gallo L'Abruzzo, una regione del centro Italia Come vedete abbiamo utilizzato le slide realizzate da alcune alunne o alunni Insieme abbiamo mescolato le slide di Claudia, di Pablo, Diego e Michele A noi interessa comunque attraverso queste slide dire le cose principali sull'Abruzzo Questo è lo stemma dell'Abruzzo, vedete questi colori, queste fasce trasversali Ecco la sua posizione nell'Italia centrale si affaccia sul mare Adriatico Confina a nord con le Marche, a est appunto dicevamo è bagnato dal mare Adriatico Confina a sud con il Molise con il quale era unito e poi si è separato A ovest con il Lazio Ecco qui vedete ad esempio una fotografia dell'altopiano del campo imperatore Questo altopiano si trova nel cuore del massiccio del Gran Sasso Il Gran Sasso d'Italia Proprio in questo altopiano c'è la omonima stazione sciistica di campo imperatore E l'osservatorio astronomico Poi va bene c'è anche un giardino botanico alpino però E' rinomato questo posto proprio per la stazione sciistica e per l'osservatorio astronomico E' una regione quindi in cui nella parte diciamo a ovest ci sono delle montagne Sono tra le montagne più alte degli appennini il Gran Sasso in modo particolare Ecco il capoluogo è l'Aquila Una città di origini medievali che sorge a 700 metri sul livello del mare Mentre le altre province sono Chieti che è situata su un colle a poca distanza dalla costa adriatica Pescara situata sul mare Capitale industriale e commerciale della regione E Teramo Città interessata da un intenso processo di industrializzazione Anche sede universitaria Ecco le quali province Qua in blu la provincia dell'Aquila che è quella più montuosa della regione Poi partendo da nord tre province che sono bagnate dal mare adriatico Quella di Teramo che confina con le Marche Poi al centro quella di Pescara E infine quella di Chieti che invece confina con il Molise Il territorio dell'Abruzzo L'Abruzzo è una regione prevalentemente montuosa Qui si trovano le cime più alte di tutta la catena appenninica Il Gran Sasso col corno grande E il massiccio della Maiella col Monte Amaro Il resto del territorio è collinare Mentre sono pianeggianti solo la piana del Fucino E una stretta fascia parallela alla costa Il crinale dell'Appennino abruzzese Attraversa la regione giusto a metà In direzione nord-sud Verso il Lazio si incontrano vette superiori Ai 2000 metri, conche profonde, alti piani come abbiamo visto Un tempo queste depressioni erano occupate da laghi Alcuni dei quali si conservano ancora come quello di Scanno Sono invece artificiali i laghi di Campotosto e di Barrea Parlando dell'Abruzzo non dobbiamo dimenticare che questo è un territorio a forte rischio sismico E infatti è stato colpito nel 2009 dal terremoto dell'Aquila Il terremoto dell'Aquila ha contato alla fine 309 morti Come potete vedere da queste fotografie Il centro di questa città, abbiamo detto una città di grandi origini medievali È stato veramente colpito duramente Qui potete vedere ad esempio un'immagine della prefettura dell'Aquila E quindi quest'anno abbiamo celebrato i 10 anni da questo terremoto Comunque anche il terremoto del 2016 Ha interessato nuovamente questa regione Non solo in questo caso, ma anche altre regioni Nel 18 gennaio del 2017 L'hotel Rigopiano Che era un centro benessere diciamo molto rinomato nella zona È stato colpito da una valanga Come potete vedere in queste due fotografie Potete vedere a sinistra appunto come è stato totalmente sommerso Tanto che quasi non si intravedono Appunto non si intravede quasi la costruzione dell'albergo Come sapete purtroppo anche in questo caso ci sono state parecchie vittime Ben 29 vittime E solo 11 i superstiti dei 40 che erano presenti nell'albergo Durante questa tremenda Insomma diciamo Nevicata Per quanto riguarda l'orografia Cioè le montagne L'abbiamo già detto Sono tante le vette Oltre a quelle già citate Abbiamo il monte Sirente Il monte Velino Pensate che praticamente l'Abruzzo non ha pianura Ci sono soprattutto montagne e colline Per quanto riguarda i fiumi Sono dal corso piuttosto breve Uno si chiama proprio Pescara Evidentemente perché sfocia Dove c'è la città, il capoluogo di provincia di Pescara Gli altri Vomano Sangro Prigno Dicevamo Dal corso piuttosto breve Perché c'è la montagna Poi c'è abbastanza Un corso breve Perché si trova abbastanza vicino Il mare Adriatico Ecco interessante La conca del Fucino Di cui abbiamo già parlato Per quanto riguarda il clima Temperato nella zona costiera Continentale all'interno Con inverni rigidi E abbondanti nevicate Come quella di cui abbiamo parlato Quella addirittura Disastrosa Eccoli qua Le due fasce climatiche Possiamo definirle così Quella della regione adriatica Che ha inverni umidi Ed estati calde E quella della regione appenninica Con un clima molto rigido D'inverno Ma anche in questo caso Gli estati sono abbastanza calde Nel 1922 E' stato istituito Il parco nazionale d'Abruzzo E' stato istituito Per salvare i boschi Formati da piante secolari Come la quercia L'acero Il pironero Custodire anche Gli animali abruzzesi Come l'orso bruno marsicano Il lupo Il camoscio Il cervo E il capriolo Ecco qui Altri animali Che si possono trovare Ad esempio In questo parco nazionale Dell'Abruzzo Del Gran Sasso Insomma da tutelare Ecco Per quanto riguarda l'economia L'agricoltura Non ha grande rilevanza Anche perché Abbiamo detto Che non ci sono pianure E' abbastanza poco produttiva L'allevamento Ha rivestito molto importanza Lo vedremo anche Nella prossima slide Soprattutto in passato Con la pastorizia Del mandri di ovini Mandri di ovini L'industria si è sviluppata Quasi esclusivamente Nella zona litorale Abbiamo parlato di teramo Ad esempio No? A livello di media Piccola impresa Questo in generale Nell'Italia Bravissima Questa è una domanda Molto pertinente Allora Ci sono infatti Delle leggi E delle regole Per cui se tu adesso Costruisci una casa Devi Costruirla Con questi criteri Antisismici Purtroppo però Come stavamo spiegando Il centro dell'Aquila È caratterizzato Da palazzi Che sono stati costruiti Tantissimi anni fa E quindi sono quelli Quelli più Fragili E Insomma Soggetti A questo tipo Di Di rischio Ecco Stavamo dicendo Del turismo Beh il turismo È in crescita Riguarda Località di villeggiature Estiva sulla costa E invernali All'interno Abbiamo parlato Infatti di Campo imperatore Ecco È vero che Diciamo L'agricoltura È abbastanza Residuale In Abruzzo Però Comunque Presso le colline Si coltivano Cereali Patate Nelle conche Anche nelle campagne Poi abbiamo Barbavetolo da zucchero Tabacco Oliva Frutti Ed uva Oppure Zafferano E liquirizia Anche in Calabria Si coltiva la liquirizia Poi ancora Dicevamo L'allevamento Ovino I pastori Passavano i mesi caldi Sui pascoli Delle montagne E prima dell'arrivo Della stagione fredda Trasferivano Le greggi Più A valle E questo Lo vedremo Nella prossima slide È il fenomeno Della transumanza Oggi Non viene quasi più Praticato Questo L'allevamento Delle pecore È diventato Stanziale Spesso Lascia il posto Più redditizio Allevamento Dei bovini E quindi Non c'è più Questo passaggio Che però Era un passaggio Tradizionale Molto suggestivo Quello della transumanza E quindi Magari Si fanno Degli allevamenti Però Stanziali Dove le bestie Sono sempre lì Tutto l'anno La pesca Fornisce Circa il 3% Del pescato Nazionale Ma il suo sviluppo È limitato Dalla mancanza Di porti Ecco Qui abbiamo Un'immagine Di un antico Tratturo Abruzzese Quando appunto I pastori Magari In sella Dei cavalli Guidavano Le loro greggi In questi passaggi Quindi All'inizio Dell'estate Dalla valle Verso le montagne E Alla fine Dell'estate In autunno Dalle montagne Di ritorno Verso le zone Più calde A valle Pochi sono Gli insediamenti Industriali Di grandi dimensioni Stabilimenti Della Fiat Sulmona Per esempio Impianti chimici A Chieti E a Pescara Che occupano Però un quinto Degli addetti Al settore secondario Di tutta la regione Perché Ci sono tante piccole Medie imprese Un ruolo importante Svolto dall'attività Di estrazione E lavorazione Dei minerali Abbondante anche La produzione Di energia elettrica Interessanti anche I giaccimenti Di metano Nella zona Di vasto Il turismo Abbiamo detto Come abbiamo detto Nella zona del Gran Sasso Montana Quindi turismo Naturalistico Oppure Sporti invernali Ci sono quindi Molti visitatori Richiamati dai tesori Artistici Anche abruzzesi Curiosità Qui abbiamo per esempio La famosa fontana Delle 99 cannelle Che si trova All'Aquila La capitale Dell'Abruzzo Si chiama così Perché ha 99 teste Da cui esce l'acqua E poi gli spaghetti Alla chitarra Una ricetta tipica Dell'Abruzzo Eh sì 99 Eh sì è 99 Cioè queste cannelle Qua le vedi Sono Delle teste Scolpite Da cui fuoriesce l'acqua Eh guarda la fotografia Bene Qui alcune altre immagini Di piatti tipici Abruzzesi O delle feste Fiere Tradizionali Dell'Abruzzo Altri video didattici Su Atutascuola.it Grazie a tutti